Un progetto molto importante per la nostra provincia perché ancora una volta dimostra che il volontariato può essere il vero protagonista del nostro territorio. Un progetto regionale che in questo caso ha impegnato nella provincia di Pesorurbino oltre 80 ragazzi che hanno deciso liberamente di darsi da fare, di fare fatica come dice proprio il progetto, ma in quella fatica hanno avuto l'occasione però di trovare un positivo riscontro che è quello di fare il bene comune, cioè di riuscire a tutelare i beni che abbiamo nel nostro territorio. Qui oggi ci troviamo in via Frescobaldi nel quartiere di Villa San Martino, uno dei luoghi in cui il progetto ha dato il massimo perché in questo luogo hanno non solo risistemato dai rifiuti che spesso vengono lasciati a terra, ma hanno anche ripristinato le panchine in legno e quelle in cemento ricolorandole con i colori che fanno parte di questo luogo. Tanti altri posti nella nostra città, dal parco di Via Luca della Robbia, al parco di Via della Resistenza, al monumento alla Resistenza e tanti altri. A Pergola, Fossombrone, un grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato perché veramente il centro servizi per il volontariato ha a cuore i giovani, ha a cuore che anche loro mettano le mani, facciano un po' di fatica per il bene di tutti. Come dicevamo in apertura, un servizio per cui anche i residenti dei vari quartieri dove sono stati effettuati questi interventi hanno avuto un riscontro più che positivo? Sì, mi è fatto molto piacere vedere come i residenti hanno fatto attenzione al lavoro di questi ragazzi e hanno capito che veramente i ragazzi hanno semplicemente bisogno di un po' di fiducia. Dobbiamo dare loro la possibilità di esprimersi, di dare il loro contributo e questo contributo porta sempre a delle cose positive. Io dico sempre che il bene genera bene e quindi ogni volta che qualcuno fa qualcosa di positivo diventa un po' l'esempio per tutti gli altri. Quindi in questo caso anche per i residenti e a chiunque di noi abbia notato con quanta voglia, con quanta energia questi ragazzi abbiano fatto queste attività. Una buona riuscita di questa prima edizione di questo progetto, chissà che non ce ne sia una seconda. Sì, assolutamente. Il progetto finanziato dalla Regione Marche prevede un finanziamento biennale. Quest'anno era il primo, noi continueremo ovviamente il prossimo anno partendo con una novità, quella di cercare di arrivare prima nelle scuole a fare sensibilizzazione per il progetto stesso, coinvolgere ancora di più i ragazzi, coinvolgere i quartieri, i comuni per riuscire a trovare le attività più consone ai ragazzi. Però ecco, veramente siamo soddisfatti. Io sono molto contento di questo progetto perché ha dimostrato come lavorare insieme porta veramente grandi risultati. Chissà, magari il prossimo anno, grazie anche all'apporto dei residenti, dei cittadini che segnalano i luoghi dove i ragazzi possono fare attività, si possa creare ancora un progetto più coinvolgente per le città, per i comuni e per i cittadini. Come tutti i progetti che si avviano alla conclusione, io voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato, le loro famiglie che gli hanno dato la possibilità, i tutor, gli endiman, i volontari delle associazioni di volontariato, e tutti gli operatori del CSV che hanno fatto di tutto perché il progetto potesse partire e arrivare a questo punto. Grazie mille.